Cari spettatori, oggi dobbiamo affrontare una notizia che sta scuotendo il mondo dell'intrattenimento e del giornalismo. Si tratta di Andrea Giambruno, noto giornalista e conduttore televisivo, protagonista di recenti scandali legati a fuori onda compromettenti mandati in onda da, striscia la notizia. Nella prima puntata di questa, saga, Giambruno è stato pizzicato fuori onda mentre faceva affermazioni inappropriate e imbarazzanti. Parlava del suo aspetto fisico, elogiava una collega in modo scomodo e faceva commenti inappropriati. Questo comportamento ha già sollevato numerose critiche. Nella seconda puntata, le cose si sono aggravate. In un dialogo fuori onda, Giambruno ha fatto commenti sessualmente espliciti e inappropriati a una giovane collaboratrice. Ha parlato di rapporti sessuali a tre e quattro, chiedendo alla collega se fosse disponibile a partecipare. Questi audio compromettenti hanno scatenato una tempesta di reazioni negative. Il nostro obiettivo è analizzare questo scandalo e discutere le implicazioni per la carriera e la reputazione di Andrea Giambruno. Restate con noi mentre esaminiamo questa controversia in dettaglio. Se desiderate rimanere aggiornati su notizie e discussioni sul mondo dell'intrattenimento e del giornalismo, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale. Vi terremo informati su tutte le ultime novità. Grazie per averci seguito e continuate a sostenere il nostro canale iscrivendovi e condividendo i nostri video.